Ciao a tutti. Come sapete oggi il Presidente Mattarella ha dato al Presidente della Camera Roberto Fico il mandato di verificare se ci sono i presupposti per un'intesa di maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il Capo dello Stato ha preso questa decisione dopo il fallimento dell'ipotesi di un governo del centrodestra, come ha certificato l'incarico alla Presidente del Senato della settimana scorsa. In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo. È cosa nota che abbiamo delle differenze programmatiche, ma è altrettanto chiaro che abbiamo tanti obiettivi in comune che potremo realizzare. Penso alla legge Fornero, alla riduzione delle tasse, ai diritti dei lavoratori, alla lotta alla burocrazia, al sostegno alle famiglie, ai loro figli, alla sicurezza su tutto il territorio nazionale, solo per citare i primi che mi vengono in mente. Alcuni mi hanno anche detto di aver esagerato in questo corteggiamento, chiamiamolo così, ma l'ho fatto perché era doveroso dare questa opportunità all'Italia. L'ho fatto perché raggiungere quei risultati elencati poco fa sarebbe straordinario per il cambiamento dell'Italia. Ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi la responsabilità di governo, perché sinceramente non riesco proprio a capire come mai preferisca stare all'opposizione per il bene dei suoi alleati, invece di andare al governo per il bene degli italiani. E dovrà darne conto a tutti gli imprenditori, pensionati, professionisti, giovani che l'hanno votato per vederlo al governo e invece ha reso il loro voto ininfluente. Non si dica che non ci ho provato fino alla fine, ma adesso buona fortuna. Fa un po' ridere anche che si citi il voto del Molise per giustificare queste scelte incomprensibili. Il Movimento 5 Stelle da solo ha preso oltre il 38% dei voti, il nostro record storico per delle elezioni regionali. Nove liste che si sono unite sotto il centrodestra hanno preso appena 10.000 voti in più. Ma chiariamo cosa sia questo centrodestra, perché qui in Parlamento centrodestra significa Salvini, Meloni e Berlusconi, che insieme alle elezioni molisane hanno preso solo il 22%, Forza Italia il 9,4%, Lega l'8 e Fratelli d'Italia il 4%. In Molise centrodestra invece significa una cozzaglia di lista e civetta che ha portato altri 20 punti. Ad esempio Orgoglio Molise 8,3%, Iorio per il Molise 3,6%, Movimento Nazionale per la Sovranità 2,7%, il Popolo della Famiglia 0,4%. Il centrodestra che ha vinto in Molise ha poco o nulla a che vedere con i partiti che sono oggi in Parlamento, quindi eviterei di mischiare le due cose. Io non so se ce ne rendiamo conto, ma questi stanno dicendo che Berlusconi ha vinto col 9%, la Meloni col 4% e Salvini con l'8% vuole fare anche il Premier e il Movimento 5 Stelle col 38,5% ha perso. Solo il Movimento 5 Stelle mantiene sempre e ovunque e comunque la sua identità ed è per questo che ci hanno votato 11 milioni di italiani. Il Presidente Mattarella oggi ha chiesto a Roberto Fico di verificare se ci sono i presupposti per far siglare il contratto di governo al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico. Io accetto la richiesta del Capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall'altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo. Questa è la settimana decisiva per dare un governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un'alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti, consiglieri comunali, regionali, europarlamentari, quello che valeva per la Lega vale anche per il PD. Le condizioni non cambiano, vogliamo un contratto di governo fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto della Cananea. L'obiettivo di questo contratto è realizzare quanto abbiamo promesso in campagna elettorale per migliorare finalmente la qualità della vita degli italiani, non la nostra ma quella degli italiani, perché il nostro programma non è né di destra né di sinistra ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare ai nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare quello che ci aspetta da 30 anni e io non ho alcuna intenzione di perdere questa opportunità straordinaria. domani, dopo aver parlato con il presidente della Camera Roberto Fico, vi aggiornerò sugli sviluppi di questa fase. Continuate a starci vicino, vi abbraccio. Ciao.